Sì Meglio facciamo vedere Ti piace? Io Ah mia sorella Gli spiegamo la storia? Sì Mi sarebbe accidentalmente cosa ha fatto mia sorella al mio telefono Allora il suo telefono vecchio Purtroppo devo dire che non era accidentalmente Ma ero molto arrabbiata Poi però se l'ha preso nuovo Quindi mi è andata solo di lusso Di lusso Oh my god No poverina mi sono sentita incontraziata Ero in cacchiata nera Ero in cacchiata nera ma proprio Ero in cacchiata nera ma proprio Putta lusso della notte Comunque anche se vi vestirono di sale Ma sì ma appunto Quattro anni 70 da cartoni Mamma di cazzo come chiede Allora Come si gira la La videocamera qua? Non puoi vedere i quadri di Vabbè allora questo è il mio Bisnonno Trisnonno Qualcosa del genere sì E qui c'è una scritta in latino E quindi anni 70 C'entra poco Là c'è un altro Certo E questo chi è? Qui c'è un altro Di nostro parente E questa è sempre una scritta in latino Non so Tu cosa intendi Per quadro anni 70 Da cartone E mettere sempre a proposta I nostri valori famigliari Ma certo Ma infatti Solo che Questo mi provoca Porca puttana Capisci bene Musolini fascista Non ho capito Che c'entra Sinceramente Non lo vuoi neanche sapere Ti giuro Non lo vuoi proprio sapere Sei uno stupidino Pannalo Eh Mo lo faccio Ma lo sai che così Nei capelli si forma Il segno del Eh Devo tenere così Eh Allora fai un giro in meno Sono tutti gonfi qua sotto Eh Se fai la coda Non è che si sgonfiano Cioè Si sgonfiano Sono tutti gonfi qua sotto Certo All'inizio sì Così Certo Madonna Sto avendo un reflusso Si sente la mia pancia Pure in diretta Sono brutti Vivi in Monaco Sono brutti Cioè Guarda se sto così Ma mo si sgonfiano Ti ho detto Ma mi metto come Deve che parsiane Guarda Non puoi fare questi screzzi In diretta Lei fa così Eh Siamo usciti a 14 persone Prima eravamo a 90 90 Sì Mentre ti sto facendo la piastra A un certo punto È vero è vero È vero è vero Grazie a te Oggi mi metto questa Con il maione nero Total black Scusa Metti il giacchetto di pelle Quello tutto rotto Se no mettiti Sono piccolo Oh Eh Metti fate di bello stasera. Allora, lei ha 12 anni, quindi sta bella che è a casetta e io non ne ne ho. Esco, non so. Ciao, non so, da 5 minuti di gloria. Cioè, sei andata a fare altro shopping? No, mi ha regalato la zia. La zia? Quando avete visto la zia? La zia, la sono andata da Clamia di sera, a cena. Ti sei divertita? Sì. Che avete fatto? Mi ha guardato un film e mi ha mangiato la pizza, ti piace? Sì, 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 un po' piccina forse. No, no, è giusto perché le maniche sono giuste, è fatta un po' corta. Ah, è fatto... è fatto corto. No, ma non è corta, mi arriva qua. Vabbè, però, cioè, non ho capito perché è più sportivo, questo è più elegante. Ora, se non torniamo alla cifra di prima, chiudo la diretta perché mi annoio. uscite tutti i cosiddetti, ma non mi entrare a pomeriggio. Buongiorno, buongiorno. Mamma mia. Alla cifra c'è. Salutare tuo nonno. Ok, non so che cazzo sta scrivendo. No. Fumi, like us. Sì, fumo, like us. Cioè, anzi, ora molto di meno. Ora molto, molto di meno quali it's. E ho iniziato con le turchesi, poi ho fumato le tic e ora le sanna caps perché le tic... Cioè, io se non ho qualcosa di fresco, diventa io... Ce la faccio proprio. Vive in caserma. Ma te vai curare? Ma che problemi hai, Maria Santa? Non sei a scuola, è il sabato non vado a scuola. Outfit oggi, allora... Non mi alzo, sì, perché non vengo. Ho una... Madonna. Ho una maglietta così, i jeans a zan, un po' di rifante azzurri e metto, penso, stivaletti col tacco sotto. Ma che dici che sono le 11 di mattina? Tra due ore, tra due ore dobbiamo uscire, Alessandra. Io sono già pronta. Io vengo così a pranzo, solo tutti devi preparare. Eh, vabbè, sistemerò io. E poi metto gli stivaletti col tacco. Ma pensi che sono scema, c'hai... Madonna, Alessandra, pranzo, sta direttata e depisto. E outfit oggi che stavo a tì? E gli stivaletti col tacco e penso di mettere un blazer nero semplice. E borsa... Prada. Eh? Prada. Prada, lei dice. Non credo. Mamma mia, Angelica. Ah, sì, prima c'erano 90 persone. 90 persone. No, no, butta, butta. Con chi stai parlando con mia sorella? Ciao, mi chiamo Maya, tu Angelica. Ti amo, Sangio. Mi sono scordata di iscriverti ieri. Era ieri? Giovedì, non mi ricordo. Mi saluti? Ciao, Yuri Tuffone. Ma ora ti aiuto io. Angie, puoi dire qualcosa? Sì, sì, sì. Per favore. Sì. Ti aiuto io, ti ho detto. Sì. Grazie a tutti.